Purtroppo ci ha lasciato Luis Sepulveda, è venuto ad Arezzo Wave quando portava il mondo qui nella nostra città. Lui è venuto con Paolo Soraci, uno grande uomo della Feltrinelli e è stato il giorno all'Arfiteatro. C'erano 3000 persone, era abbraccio, parlava, ma soprattutto il giorno era anche dall'Olga, la nostra mitica Olga, a mangiare i ravioli e i crostini neri che tanto gli piacevano e a ridere, a scherzare, a bere insieme e poi a fare le dediche, a fare quello che altro gli veniva dal cuore. E la sera soprattutto ricordo che è venuto allo stadio, dietro nel backstage e è venuto quando c'era sul palco doveva suonare Miriam Makeba. Quindi lui era in qualche modo l'incarnazione, l'immagine del popolo che lotta in Cile, quindi in Sud America per poter sconfiggere il fascismo, Pinochet e comunque tutta la dittatura. E Miriam Makeba era mamma Africa, quindi quella che rappresentava la fine dell'Apartheid, che proprio nel 2004 celebrava i dieci anni di fine. E allora io lo convinzi e gli dissi perché non la presenti tu Miriam Makeba? Lui salì nel palco e come avrete visto nelle serate che abbiamo passato a Red's Wave, stiamo passando qui in questa televisione, lui presentò Miriam Makeba dicendo che era un onore per lui presentare questa figura unica che era mamma Africa. Quindi ho un ricordo fortissimo e sono felicissimo che lui ha potuto venire ad Arezzo, grazie a tutti gli amici di Arezzo Wave che l'hanno reso possibile e grazie veramente all'entusiasmo che ci ha dato perché è stata veramente una bella presenza per la nostra città. In qualche modo rimarrà sempre nell'aria, tutti si ricorderanno di lui. Quindi un abbraccio e un ricordo e un pensiero fortissimo a Luis. Che te vai a bien, come si dice. Grazie a tutti.